Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per ripristino incidente, 3 km di coda tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi e 2 km di coda tra Badia e il Bivio A1 variante. Per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in prunita. La viabilità cittadina a Firenze fino al 18 agosto per lavori in via Bolognese e modifiche alla circolazione. A causa delle avverse condizioni meteo i collegamenti con le isole potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!